Il numero di telefono 1522 del centro antiviolenza impresso sullo scontrino del pane. C'è un messaggio che potrebbe cambiare la vita a molte donne su quel pezzo di carta. Se sei donna e subisci violenza chiama questo numero. Succede a Catania, in un panificio, dove la titolare sullo scontrino ha anche voluto imprimere un messaggio molto forte. Per troppe donne la violenza è pane quotidiano. L'iniziativa del Forno Biancuccia è stata realizzata con la collaborazione di Flai CGL e del centro antiviolenza Tamaia nell'ambito degli eventi in programma per la giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Ogni momento, spiega Valeria Messina di Forno Biancuccia, può essere utile per contrastare una cultura ancora estremamente sessista, discriminatoria e violenta nei confronti delle donne, perché ancora purtroppo per troppe donne la violenza è pane quotidiano. Per Angela Battista, responsabile del coordinamento donne della Flai CGL Sicilia, l'iniziativa nasce dall'esigenza di mettere in campo misure di contrasto contro un fenomeno diventato purtroppo strutturale, come la violenza sulle donne, e in questo campo il mondo del lavoro deve lanciare messaggi concreti ed importanti.